In effetti è uno strumento per ottimizzare lo sforzo che stiamo già compiendo da settimane. In effetti spesso ci arrivano segnalazioni di assembramenti o di intensità di traffico veicolare nelle varie aree della città. Utilizzando questo strumento possiamo dirottare bene la presenza delle pattuglie sul territorio. Considerate che lo sforzo è intenso, ogni turno di lavoro prevede la presenza almeno di 7-8 pattuglie. Chiaramente bisogna coordinarle, facciamo dei posti di blocco, li dobbiamo spostare velocemente sul territorio e quindi questa tecnologia ci facilita in questo tipo di attività. Come sono i risultati rispetto alle prime giornate raccolte dalla Polizia Municipale? Più disciplinata la popolazione? Diciamo di sì. In generale la città di Benevento ha risposto bene agli appelli rivolti innanzitutto dal sindaco Mastella e quindi c'è una mobilità molto circoscritta. D'altra parte questo spiega anche il numero molto basso di contagiati. Però ci sono ancora alcuni indisciplinati. Si considera che nel report degli ultimi 7-8 giorni comunque ci consegna 5.800 controlli, circa 30 denunce. Il movimento c'è in città e quindi abbiamo la necessità di essere molto vigili.